Signore e signori, popolo LGBTQI e drag queen di tutto il mondo, Tiziano Ferro! Ciao a tutti! Ciao! Io sono il più grande esperto di drag race nel mondo, io posso nominarvi tutte le drag che hanno vinto, quelle che non hanno vinto. Io l'ho già detto alle ragazze, ho riconosciuto due drag protagoniste di drag race in giro per la strada a Los Angeles, non in drag, e le ho fermate ovviamente per fare loro i complimenti, mio marito è diventato disperato perché non ce la fa più, parlo solo di drag race. State realizzando un mio sogno, adoro l'arte drag, chi si avvicina all'arte drag come scelta professionale nel nostro paese ha tutto il mio rispetto e il mio amore. Grazie per aver fatto questo perché io sono cresciuto in una generazione nella quale mancava rappresentanza di persone diverse da me. Questo è un mestiere, un mestiere faticoso, l'ho detto alle ragazze, nella televisione, nel teatro, nel cinema, quello che fanno loro lo fanno 20 persone. Trucco, parrucco, stilismo, sarti, portamento, scarpe, e loro lo fanno con un atteggiamento militare. Se un uomo o una donna provassero a fare drag per 20 minuti, smetterebbero dopo 20 minuti piangendo. Grazie per aver dato l'importanza che merita quest'arte nel mondo, che abbiamo inventato anche noi ragazzi dai tempi di Pirandello. E che è possibile che noi in Italia pensiamo ancora che il drag sia un intrattenimento di basso livello. Non lo è. Continuate così, con spirito divertimento, con un po' di sana cattiveria, a portare avanti anche dei messaggi come avete fatto fino ad oggi. Io non dico niente, perché non sono un giudice. Ancora non lo sono. Per il momento, ma... Allora ragazzi siete state bravissime, ma un'altra cosa, devo fare questo. Per il futuro, good luck and don't fuck it up.